Yoki Shikawa, una grandissima vittoria per Milano 3 a 1 contro un avversario difficile come Monza, insomma un derby vinto per Milano e il primo obiettivo è stato raggiunto, tre punti importantissimi. Sì, io sono molto contento di questa vittoria, la situazione non è facile, è un po' difficile, però abbiamo preparato bene questa settimana, quindi questa vittoria sono molto contento. Veniamo un attimo alla prestazione, la partita, una grande partita di squadra in cui è venuta fuori la prestazione anche dei singoli, la tua come quella di Mar, come quella di Jeanne, oggi ha vinto il premio di MVP, è importante per un giocatore sapere di essere fondamentale comunque per la squadra in alcune situazioni di gioco. Sì sì, tutti abbiamo giocato bene, anche io ho giocato bene, però questa MVP non è per me, per tutti. Due partite, due vittorie, Milano per una notte, fuori della testa della classifica, insomma una bella sensazione. Sì sì, è molto molto bene, ma da adesso ogni tre o quattro giorni è una partita, quindi un po' fisicamente un po' sarà difficile, però speriamo che faremo bene. A proposito di tre o quattro partite, già mercoledì si torna in campo contro Vibo all'Allianz Cloud, subito un altro test importante. Sì, anche questa partita è molto importante per noi, però abbiamo giocato questa partita anche la scorsa partita, quindi possiamo giocare bene. Grazie. Grazie.